Via libera al microcredito in Campania, per assicurare piccoli prestiti a tasso zero ai cittadini che hanno idee imprenditoriali senza i mezzi per realizzarle. Dal 19 novembre al 19 dicembre sarà possibile fare domanda di accesso al fondo che potrà concedere prestiti da 5 a 25 mila euro da restituire in 5 anni senza interessi. Il Comune di Napoli lancerà presto alcune iniziative per accompagnare gli aspiranti imprenditori alla stesura dei business plan e per fornire tutte le informazioni utili a partecipare al bando. È già attiva la casella di posta elettronica microcredito-comune.napoli.it per iscriversi alla mailing list dedicata che fornirà tutte le novità sull'iniziativa. E dal 29 ottobre in tutte le municipalità si terranno incontri divulgativi per illustrare le linee guida del bando e le informazioni tecniche necessarie a realizzare i progetti d'impresa.